cerco di ricompormi un attimo perché qui ci sono stati 5 minuti di delirio assoluto dove non si capiva niente gente che si spogliava girava nudi per casa cose proprio inenarrabili ma adesso cerchiamo un attimino di di razionalizzare un po' il tutto intanto c'è la gente che mi scrive su whatsapp gente che piagna gente che urla razionalizziamo un po' il tutto è evidente che io non ce l'avevo capito niente come spesso accade perché pensavo a una Roma ridimensionata a parte per la classifica ma perché comunque a mio avviso parte della squadra della rosa attuale non è all'altezza è una Roma che vuole puntare a vincere un campionato a partecipare a una Champions League andare in fondo eccetera in più le parole di Tiago Pinto io mi riecheggiano sempre in una mente perché mi da onesto onestissimo non ha fatto come Monci onestissimo ha detto questo è un progetto a medio-lungo termine 4-5 anni dove comperemo dei giovani inseriremo se ci sarà l'opportunità anche qualche campione però insomma mi ha fatto capire che se c'è sta qualche occasione se buttano su qualche nome però chiaramente deve essere anche magari con un ingaggio accessibile a quello che è il fair play finanziario cazzo è massimo va bene tutto per cui poi dopo mi annunci muo io resto un po' così perché perché conoscendo l'allenatore innanzitutto quanto prende l'allenatore che non credo sia poco e comunque è uno che è sempre stato abituato ad allenare grandi club quindi grandi nomi e per cui mi viene da pensare che molto probabilmente allora il profilo basso di Jacopinto nascondeva comunque una voglia di lavorare sotto traccia e di pianificare una Roma che magari non ci metta a 4-5 anni a diventare una squadra forte in grado di ambire a prestigiosi trofei ma che magari lo fa in maniera un po' più rapida penso poi chiaramente tante cose non si sa non si sa quanti anni di contratto almeno io non credo che ci sia scritto sul sito della S Roma il sito ufficiale vediamo se per caso lo dicono vediamo se per caso lo dicono Murigno da Roma dal 2020 il comunicato leggiamo il comunicato 58 anni più vincenti della storia 80-25 titoli ci stanno anche le sue prime dichiarazioni quindi è tutto vero conclude anche con un dai Roma e che ve devo dire è evidente che da Roma se sceglie Murigno vuole fare le cose fatte bene personalmente ritengo che sia l'uomo ideale chiaramente io non immaginavo se puntasse l'allenatore di prima fascia è l'uomo ideale perché può andare a incidere proprio lì dove c'è stato un mancamento in questi anni ossia sul pungolare il calciatore a dare sempre qualcosa in più sempre stare col fiato sul collo sempre stare con la concentrazione alta poi chiaramente si darà credo anche un occhio alla fase difensiva e a quel punto la Roma diventa una squadra in grado di rappresentare una realtà importante quantomeno nel campionato di Serie A dove sappiamo che la fase difensiva c'è la sua importanza poi per essere noi stiamo a parlare io ripeto che a mio avviso avrei aspettato ancora qualche giorno per fare questa sorta di annuncio però magari chi ne sa che a livello psicologico non hanno detto guardate il prossimo andatore è Murigno fatemi vedere adesso subito fatemi vedere adesso subito chi è in grado di essere all'artezza di un andatore così e chi non è in grado se ne va affanculo questo forse ecco qual è il messaggio ho capito adesso ho capito la mossa psicologica della società mando via Fonseca annuncio subito Murigno e vi faccio vedere brutti stronzi che ho preso per l'anno prossimo chi ce vuole rimanere in una Roma che può arrivare ad alti traguardi con questo allenatore chi ce vuole rimanere fatemi vedere adesso chi ce vuole rimanere perché chi non è in grado di essere all'artezza se ne va affanculo ecco questo è il messaggio è un messaggio che ci vuole rimanere